Buongiorno, sono Federico Vedani, oggi vi presento la veneziana ciocco caramel. Per questo Natale abbiamo realizzato questa veneziana col dolce forno maestro e abbiamo voluto caricarla del gusto del caramello. Abbiamo utilizzato il sigillo di Buon Natale, i petals mini white per cui queste piccoli fiocchi bianchi, il winter tree, una decorazione che è sempre un evergreen per quanto riguarda la decorazione di Natale ed infine i candy cane che sono questi bastoncini di cioccolato bianchi e rossi. Eccola qua, la nostra veneziana tagliata ovviamente per metà. Adesso andiamo a vedere bene ovviamente tutti quelli che sono gli elementi che la compongono. Questa è la nostra veneziana come si presenta all'interno. Abbiamo una bella violatura, una bella struttura soffice data ovviamente dal dolce forno. Un colore leggermente caramellato della pasta dovuto al fatto che noi abbiamo utilizzato la Joy Paste Caramel. Ricca di inclusioni di cioccolato, abbiamo utilizzato il Reno Concerto Lacte Caramel ed esternamente l'abbiamo glassata con il Choco Smart Caramel Cramble. in modo da dare un'ulteriore croccantezza e gusto di caramello esterno.